annessi in italiano annessi è un comune francese di 128 mila abitanti e capoluogo e sede di prefettura del dipartimento dell'alta savoia nella regione alve alvernia rodano alpi ha un'altitudine di 448 metri sul livello del mare e iniziamo subito con il visionare alcune chiese allora vediamo un attimino qualcosa sulla geografia di questo posto allora annessi è una città di chiusa situata sulla sponda settentrionale del lago omonimo quindi lago di annessi e sul suo sbocco naturale dove essa occupa una posizione strategica sugli assi trasversali che collegano l'italia svizzera francia la sua localizzazione geografica è una zona di transizione tra ambiente montagnoso pre alpino massiccio dei bornes e massiccio dei bauges è una zona di medio colline ok la città è contornata a sud dal lago e dalla vasta foresta rimasta selvaggia dal massiccio semons ad ovest le prime propaggini della campagna e a nord la grande piana oggi però urbanizzata dai fins e a est dalla collinetta di annensi la città è attraversata dal tiu è un emissario naturale del lago di origine glaciale formatosi circa 18 mila anni indietro lungo solamente cinque chilometri adesso vediamo anche un po di storia di annensi recenti scavi hanno provato l'esistenza di insediamenti nella zona di annensi che sono risalenti al 3.100 avanti cristo le prime notizie storiche si hanno poi in epoca romana nel quale attorno all'anno 50 avanti cristo si ha notizia di vicus di circa 2000 anime definito con il nome boutao nella pianura dei fins del quale ancora restano delle tracce sufficienti per poter risalire all'ubicazione del foro della basilica e anche dalle terme che sono visibili nella avenue dei romains e del teatro questo insediamento aveva una forma triangolare derivata dal fatto che si era sviluppato dalla convergenza di tre assi stradali ciascuna dei quali diretto rispettivamente verso faverges nel sesto secolo boutao venne pressoché abbandonata e solo a partire dal dodicesimo secolo vive una nuova fase di rilancio demografico con l'occupazione delle rive del tiu una prossimità del lago questa posizione era vantaggiosa per il superamento del fiume e la data vicina presenza dell'isola e fu proprio in questo luogo che si instaurò una signoria nasce così un insediamento protetto da fortificazioni che costituisce il nucleo originale del castello medievale questo nucleo aveva il nome di annensile 9 1107 luogo che crebbe di importanza tanto di diventare la residenza del conte di ginevra fin quando lo stesso nel diciottesimo secolo venne espulso in seguito a gravi conflitti con i vescovi dopo l'estinzione della famiglia di ginevra nel 1394 il cui ultimo rappresentante fu roberto di ginevra divenuto antipapa con il nome di clemente settimo la contea poi fu integrata dai possedimenti della casa di savoia nel 1401 passando sotto l'autorità di amedeo ottavo primo duca di savoia nel 1444 la città fu eretta ad appannaggio dei principi di savoia e annessì allora denominata ennesì divenne capitale dei loro possedimenti del ginevrino e anche di altri posti nei dintorni al declino succeduto alla chiusura della felice parentesi che la vide capitale del ginevrino si aggiunse la desolazione causata da una serie di incendi che distrussero gran parte della città e da quello del 1412 e fino a quello del 1448 amedeo ottavo si attivò per far sì che la città si risollevasse e diede il via alla ricostruzione del castello e anche di parte della città che è andata distrutta con il passaggio dell'appannaggio a filippo nel 1444 figlio di amedeo l'attaccamento dei savoia è confermato da annessì e annessì rinacque da una lunga crisi riproponendosi come la capitale di un territorio che comprende ginevrino i reali di francia con i quali nel frattempo vennero intracciate delle parantele consegnarono ai principi di savoia il ducato di nemours vicino a fontainebleu conferendo il loro titolo di duchi del ginevrino è sempre in questi anni che annessì divenne sede episcopale in concomitanza con l'improvvisa partenza del vescovo di ginevra che preferì abbandonare la propria città alla vigilia della riforma protestante nel 1535 ecco davanti abbiamo palace di sle poi vedremo dopo ecco dopo vedremo bene qualche informazione su questo bellissimo posto che vediamo in questo momento nel corso della breve guerra franco savoiarda il 5 ottobre 1600 annessì venne occupata d'enrico iv ma tornò poi pochi mesi dopo con il trattato di lione al ducato di savoia annessì accolse a partire dal 1592 i numerosi ordini religiosi cattolici in fuga divenendo la capitale della controriforma guidata da francesco di sales giunsero poi quei cappuccini nel 1592 e le visitandine nel 1610 i barnabiti nel 1614 le annunziate di san claudio nel 1638 i bernardini riformati nel 1639 i lazzaristi nel 1641 i cistercensi nel 1648 la presenza religiosa era dunque molto importante ad annessì contando 13 case religiose per i 5000 abitanti la metà della città apparteneva a diversi ordini religiosi proprietari non solo di chiese conventi ma anche proprietari di laboratori molini e vaste terre boschi questi ordini religiosi che avevano la cura della formazione giovanile e degli ospedali per i malati per i poveri davano lavoro agli artigiani e ai commercianti locali in questo contesto la tenuta di annessì ebbe un significato talmente rilevante da farla diventare la roma dei savoia è questo il periodo più fortunato della storia di annessì come testimoniano tanti monumenti e ancora oggi si possono ammirare e risalgono proprio a questi anni durante la rivoluzione francese e l'età napoleonica la città fu unita al nuovo dipartimento del monte bianco il cui capoluogo era chamberi ma con la ristrutturazione con la restaurazione ritornò a far parte anche del regno di sardegna dopo i venti rivoluzionari del fervore cattolico e la centralità della chiesa diminuirono drasticamente e l'industrializzazione ebbe un'accelerazione notevole anche grazie allo sfruttamento dell'energia idraulica ricavata dal corso del fiume tiu del periodo rivoluzionario ed anche da segnalare positivamente il piano urbanistico redatto da thomas dominic che nel 1794 ridisegnò l'assetto della città prevedendo un'ampia rete stradale inserita nei grandi assi di circolazione e preservando opportunamente il quartiere storico nel 1860 dopo l'annessione dei savoia alla francia annessi divenne capoluogo del nuovo dipartimento dell'alta savoia e dalla metà del diciannovesimo secolo una sempre più crescente sensibilità nei confronti dei siti alpestri aprì la città al turismo che è oggi un'attività di primaria importanza per tutto il comprensorio ecco adesso vediamo invece qualche informazione sulla economia la riva nord del lago di annesi fu occupata almeno dal 3.100 a.C. ed annesi che si chiamava allora a buto fu una borgata industriosa in epoca romana parliamo però del 50 a.C. e con la caduta dell'impero romano le grandi invasioni portarono a una tale insicurezza che la città decade completamente e i sopravvissuti si rifugiarono sulla collina di annesi poi però invece da partire dal dodicesimo secolo le rive del tiù furono un luogo di intense attività artigianali commerciali industriali e poi finalmente dalla fine del diciassettesimo secolo la città conobbe una grande riconversione in senso industriale innovativo legato alla forza idraulica del tiù e alla personalità intraprendenti la sua vocazione industriale si affermò anche nel ventesimo secolo senza nuocere la vocazione turistica del territorio favorita dalla scoperta e dallo sviluppo delle località alpine oggi molto dinamica come il resto della regione ecco adesso parliamo un attimo del di una parte importante di questo posto ecco una le specialità acqua in francia sono sicuramente i formaggi e i dolci ecco qui abbiamo il castello e adesso però parliamo dell'altro del palazzo quello che si trova nel lago che si chiama palace disley fu la residenza del castellano di annesi dal mi dal dodicesimo secolo e dal 1900 è stato classificato monumento storico di francia storia e descrizione di questo posto il forte venne edificato per volere del conte di ginevra nel 1132 e fu realizzato in più fasi fino al sedicesimo secolo il palazzo fu collocato nel mezzo del fiume tiù su una piccola isola la curiosità è che questo palazzo ha una forma triangolare ed è rivolto verso il lago di cui il fiume è un emissario naturale la sua forma evoca l'immagine di una nave ancorata tra le case che con la sua prua divide in stancabilmente le acque è stato acquistato dalla famiglia de ginevre nell'ottavo secolo la fortezza dopo divenne la residenza della famiglia montaux nel 1355 palace disley fu sede della zecca fino a quando fu acquistato da janus de savoia successivamente quando i conti di ginevra si stabilirono dannessi il palazzo fu utilizzato come centro amministrativo e sede del governo fino al 1659 dopo il 1713 diventò sede del palazzo di giustizia e fu anche utilizzato in meno modo prestigioso come una casa di cura per le persone anziane e le autorità rivoluzionari e poi lo trasformarono nella prigione della città nel 1864 durante la seconda guerra mondiale venne utilizzato di nuovo come carcere e divenne tristemente famoso perché durante la resistenza fu usato dai nazisti per rinchiudervi molti partigiani il palazzo che stava per essere demolito fu salvato grazie alla sua classificazione come monumento storico francese nel 1900 e poi come museo nel 1952 a causa del lungo periodo impiegato per ultimare l'edificio il palazzo si presenta come un complesso di edifici comunicanti tutti su una piccola corte al fondo della quale si trova una piccola cappella ortodossa come ogni castello ci sono anche dei segreti che vengono custoditi infatti secondo alcuni esperti appassionati palazzo di sle ha un lungo sotterraneo comunicante con un altro castello chate de namur mentre molti ricercatori sospettano invece l'esistenza di un altro sotterraneo che porterebbe a una vecchia città che è stata sepolta dal lago oggi oggi è sede del museo municipale della città e ospita il centro di interpretazione dell'architettura e del patrimonio che è dedicato alle vicende storiche della città dell'alta savoia con raccolte lapidarie ma ospita anche mostre contemporanee eccolo qua il nostro palazzo di sle l'abbiamo visto molte volte nel video e lo vediamo ancora adesso ecco una allora innanzitutto qui ci sono da dire molte cose allora anni si viene denominata la piccola venezia per quale motivo perché ci sono tutti questi canali ponti passaggi archi e queste queste strutture di legno e tante altre strutture che vagamente la dico vagamente possono ricordare un pochettino venezia al nessì e vabbè famosa come come quasi tutti i posti della francia per la baguette per i formaggi e per i dolci infatti queste cose quale troverete dappertutto ci sono veramente tantissimi posti dove fare comprare qualsiasi cosa che si che riguardi queste tre cose qui panini a volontà per i turisti è una particolarità è che i panini vengono tutti fatti con con questo formaggio che viene riscaldato e sciolto dentro nella nel panino ecco io personalmente ho girato moltissimi posti di lago e devo dire che a parer mio questo è quello che mi è piaciuto di più per me è il più bel posto di lago che abbia mai visto nulla da togliere ovviamente ai posti italiani ma è veramente molto molto bello e comunque abbiamo visto molte cose in questo video che riguardano il quadrante del quadrante storico della della città quindi le chiese i pass di sle il castello solamente in in esterno è comunque visitabile se volete visitare il castello visitabile a pagamento qui ci troviamo nelle vie invece del centro storico dove è possibile anche fare un po di shopping e il video è quasi finito e colgo l'occasione per dire venite se avete l'occasione di vedere questo posto secondo me merita di fare al minimo un paio di giorni perché una giornata è un po poco per poter visitare tutte queste cose bellissime bene il video sta per finire spero che vi sia piaciuto fatevi un giro d'annessica è bellissima alla prossima